Ciao, sono Angela. Ciao, sono Davide. Ciao, sono Lena. Ciao, sono Gabriele. Volevo dirvi che è bello essere qui per la Fondazione Stefania. Ciao, sono Barbara. Per me la Fondazione Stefania è un'opportunità, è una comunità inclusiva, è un posto colorato con vari sfumatori, un posto dove far crescere i sogni. Ciao, sono Letizia e la Fondazione Stefania è tanta roba, è un posto in cui si possono inventare un sacco di cose. Ciao, sono Fabio, lavoro in associazione Fondazione Stefania da 31 anni, faccio il coordinatore del servizio formazione. Per me l'associazione Stefania è un pezzo della mia vita, un incontro con tante persone, tante fatiche, ma anche tante soddisfazioni. E sono Osanna. Ciao, sono Mattia, educatore di Fondazione Stefania. Sono Silvia, segretaria. Ciao, sono Sabrina, educatrice Fondazione Stefania. Per me è una seconda famiglia. È un luogo dove mi piace stare. Casa. E anche condivisione di idee. Ciao, sono Paolo. Ciao, sono Arsilia. Ciao, sono Francesca, educatrice. Sono Benedetta. Fondazione Stefania, per me è un laboratorio creativo di sperimentazione. È un luogo accogliente. È un posto dove non ci si annoia mai. È un luogo di aggregazione in cui stare insieme e poter superare dei momenti anche difficoltosi come questo, facendo un sacco di cose insieme. Ciao, sono Laura. Ciao, sono Elena. Ciao, sono Francesca. Ciao, sono Barbara. Per me Fondazione è un posto dove ascolto storie. È un baule magico. È una seconda famiglia. È un posto nel quale superare ogni diversità. Ciao, sono Anna e lavoro in associazione Stefania. Ciao a tutti. Sono Letizia, educatore. Ciao, sono Sofia. Per me l'associazione è un posto dove sorrido e cerco di far sorridere. È una famiglia di creativi. È una continua crescita. Sono Liliana, direttrice del centro di Lissone. Voglio raccontarvi che per me il sistema nato quasi 50 anni fa dall'associazione Stefania. È un luogo di possibilità e di incontro dove ogni giorno cerchiamo di costruire con impegno un mondo un pochino più giusto. Ciao, io sono Cristina e lavoro in Fondazione Stefania. Ciao, sono Elisabetta. Ciao a tutti, sono Cristina. Per me la Fondazione Stefania è un gran bel posto. Relazione, creatività e mani in pasta. È una certezza. Ciao, sono Anna, educatore di Fondazione Stefania. Ciao, sono Laura Gasparro, la coordinatrice del servizio adulto di Fondazione Stefania. Fondazione Stefania è un luogo di esperienza. È un insieme di persone che lavorano con tanta passione. Ciao a tutti, io sono Antonella. Per me Fondazione Stefania ha solo 25 anni di lavoro e buon Natale. Auguri di buon Natale. Buon Natale. Buon Natale a tutti. Ciao, buon Natale a tutti. Ciao, ciao. Buon Natale a presto. Buon Natale. Ciao. Buon Natale a tutti. Buon Natale auguri buon natale a tutti buon natale a tutti tanti auguri per un natale sereno e un positivo inizio di anno nuovo auguri a tutti tanti auguri di buon natale buone feste un bacio auguri di buon natale a tutti quanti buon natale ciao buon natale auguri di buon natale a tutti buon natale tanti auguri di buon natale a tutti e buone feste vi auguro a tutti buon natale sereno natale soprattutto e auguro a tutti voi uno splendido natale vi auguro buon natale a tutti buon natale a tutti a tutti e buon natale a tutti